Luciana io adesso partirei una cosa così per scaldarci una domandina semplice se ti senti ancora comunista cosa vuol dire per te essere comunista oggi? non ci siamo ancora riusciti a fare un posto dove ci sia sia libertà che uguaglianza e mi pare che rinunciarci sarebbe grave e quindi ci provo ancora essere comunisti vuol dire questo provarci ancora e i piatti dopo chi li fa? i piatti tu lo sai a me lavaviati mi fa scherzo mentre mi perdo nei tanti materiali cinematografici prodotti dal dc mi domando se c'è qualcosa dell'esperienza di quel partito che potrebbe esserci utile ancora oggi noi come comunisti ideologicamente da che parte stiamo? Alinetto via qua! cioè è vero un cinema di tanti per tanti non un cinema di pochi di casta per tanti anche se canale direttamente non un cinema di youtube amm-nette l'ambließen ci sono dei